Musica Opera sul candidato premier, dopo il giallo del curriculum e l'appoggio a Stamina, dopo un vertice di Maio e Salvini conferma nel nome di Conte Tanti più lunghi per l'incarico a Giuseppe Conte dal presidente Mattarella all'incontro con Antico e Casellati nessun segnale, decisione, forse giovedì Omicidio, suicidio di Chieti, la moglie sarebbe stata gettata dal balcone, questa la verità secondo indiscrezioni dell'autopsia Parla dal Parlamento Europeo Mark Zuckerberg dopo il caso di Cambridge Analytica e si scusa per gli errori commessi da Facebook, dice faremo di più Trump mette in dubbio il summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un dopo la frenata di Pyongyang e l'incontro con il presidente sul coreano Ustica, 38 anni dopo, la Cassazione condanna i ministeri delle infrastrutture e della difesa a risarcire la compagnia aerea a 265 milioni di euro Parte da Cività Vecchia con mille studenti a bordo, la nave della legalità, destinazione Palermo, domani l'anniversario di Capaci, Mattarella, fare di più contro la mafia